Laura Adriani, allora sei la protagonista femminile di Resta con me, questa nuova attesissima serie della RAI. Innanzitutto c'eravamo lasciati che interpretavi una poliziotta che si infiltrava in una banda criminale e qui invece hai sempre a che fare con la legge perché sei un giudice che ha a che fare con i minori. Quindi innanzitutto raccontiamo il tuo personaggio e poi arriveremo a quello che accadrà. Il mio personaggio è il personaggio di Paola, Paola appunto come tu hai detto si occupa di minori, è un giudice dei minori che spesso fa delle scelte anche molto rigide, è come se vedesse la realtà ancora bianco e nera, mentre invece la realtà è piena di sfumature, è molto rigida con gli altri e molto rigida con se stessa. Durante il primo episodio appunto ci sarà un evento traumatico per lei che è la perdita di questo bambino e questo evento traumatico innescherà una serie di rivelazioni per Paola, umane innanzitutto, su se stessa, sugli altri, sul mondo che la porteranno a un cambiamento. e poi si troverà a dover, come dire, fare da madre, diciamo non voluta, ecco diciamo così, a questo ragazzino che rimarrà diciamo orfano e quindi com'è prendersi cura poi del figlio di qualcun altro magari per una donna che appunto ha perso il suo bambino? Dirò un'eresia, ma la dico, chi se ne frega. Io credo che le cose non accadano mai per caso, mai. E anche per Paola la perdita di quel bambino non è accaduta per caso. Paola voleva essere pronta a diventare madre, secondo me questo è il mio viaggio mentale, però non era pronta. E grazie a Mario diventa pronta, perché diventa una madre, perché Mario le fa da specchio. Paola e Mario rivede se stessa da piccola, i suoi traumi, le sue debolezze, ma anche la sua forza, la sua verità. E quindi quell'incontro è… è l'incontro per Paola con Mario, con Mario Di Leva che è Diego. Esatto. E invece Napoli, l'ultima volta parlavamo appunto di come tu abbia scoperto Napoli, ti sia napoletanizzata, adesso ormai praticamente hai preso la residenza. Sì, voglio molto bene a Napoli, voglio molto bene napoletani. Spero di tornarci presto, vorrei tanto girare la seconda stagione di questa serie. Quindi sì, spero di prendere la cittadinanza, poi quella ad honorem. Mi piacerebbe tantissimo girare a Napoli, girare anche una Napoli un pochino più sanguigna. Io sono di Ostia, quindi adesso sembro un po' tutta impostata, ma in realtà io sono una bella, cioè io sono deborgata, capito? Quindi mi piacerebbe tanto entrare nella Napoli quello verace. Verace. Senti, ma invece per quanto riguarda te, ti sei domandata, inevitabilmente lo avrei fatto, io come mi sarei comportata al posto suo, nei confronti ovviamente del compagno, del marito, dopo quello che è accaduto. Laura ha questo grande difetto di essere tremendamente comprensiva con il genere umano. Non lo so se... Non lo so, forse sarei stata più compassionevole nei suoi confronti, però non è detto. Non lo so. Non me la sono fatta come domanda, non me la pongo perché non mi interessa Laura nel momento in cui incontro Paola, mi interessa solo di Paola. Fortunatamente, perché tutti gli altri giorni invece mi interessa un sacco Laura, capito? Quindi noi attori spesso facciamo questo lavoro per distrarci da noi stessi, perché siamo egocentrici e pensiamo troppo a noi stessi, quindi se incontriamo un ruolo e diciamo ah, che bello, fammi occupare di lui, di lei. E quindi se volessi dare un consiglio alle tue amiche spettatrici del perché vedere resta con me, al di là della presenza di Francesco Arca. Ovviamente della presenza di Mario Di Leva, cioè ci sono Francesco Arca, Mario Di Leva e penso che siano due motivi importanti per vederla. E quindi diamo l'appuntamento? Diamo l'appuntamento a domenica 19 febbraio, dopo Amadeus, giusto? No, domenica non c'è Amadeus. Vabbè, domenica 19 febbraio, resta con me. Grazie e complimenti. Grazie a te, ciao.